e la domenica... non me la ricordo più beh, questo lo tagliamo, ma siamo sicuri che lo tagliamo e non sono sicuri è vero, devo dire le parolacce così li tagli per forza buongiorno ragazzi, spero che la settimana di allenamenti sia andata bene per il sottoscritto è stato un po' caotico, sono stato al sud della Polonia ho dovuto convivere con venti fortissimi, magari nei prossimi giorni nell'angolo tech ne parleremo di come correre con il vento siamo giunti alla quinta settimana di preparazione della mezza maratona e maratona primaverie mancano tre settimane alla Roma Ostia e cinque alla Stramilano e soprattutto domani ci saranno a Verona i campionati italiani spero che la vostra preparazione stia andando bene noi oggi abbiamo anticipato la pubblicazione del video perché domani parleremo di ASICS Glide Ride vi consiglio di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per oggi lascio la parola ad Andrea Soffientini che nei prossimi minuti vi racconterà come preparare per la settimana prossima mezza maratona e maratona primaverile Andrea vi darà anche alcuni consigli su come variare l'allenamento se lo ritenete troppo monotono ciao e a dopo ciao Andrea siamo giunti alla quinta settimana di preparazione della mezza maratona e della maratona primaverile che cosa ci suggerisci come menù di questa settimana? allora innanzitutto ciao a tutti questa settimana propongo uno dei miei allenamenti preferiti 3 volte 3.000 a ritmo 10 km se qualcuno vuole usare 4-3.000 con recupero questa volta 3 minuti da fermo poco più lento del ritmo dei 10.000 se sono 4 il venerdì circa farei 30 minuti svelti quasi al medio più una quindicina di salite con recupero lento e invece la domenica cosa pensi di fare? la domenica invece direi di tenere un medio da 15 km il medio ormai l'abbiamo conosciuto negli altri allenamenti se vi siete rotti le scatole di fare sempre il solito medio lineare ogni 5 minuti potete buttarci dentro un minuto forte l'importante è quando finite il minuto forte ritornate a girare a ritmo del medio e non più lenti e per chi non avesse tempo di guardare i video delle settimane precedenti ci puoi ricordare quali sono i ritmi del medio? il medio deve essere un ritmo relativamente facile per i primi 10 km gli ultimi 5 km andremo un po' in sofferenza all'incirca in secondi 10-15 secondi dalla ritmo mezzo maratona dipende poi sempre come riuscite a digerirlo come allenamento io ultimamente lo sto facendo sui 10 secondi al chilometro più lento dei miei atleti riescono a tenere bene 10 secondi qualcuno dobbiamo contentarci dei 15 secondi che fa fatica mentalmente a tenerlo come allenamento e invece per chi si sta preparando per la maratona primaverile quali allenamenti suggerisce? eravamo arrivati a un 3x5000 con recupero 1000 aggiungiamo un altro 1000 facciamo 3x6000 recupero 1000 questo è un po' un problema perché è un allenamento abbastanza lunghino in settimana i 6000 ritmo maratona e il 1000 sempre 20-30 secondi più lento il venerdì facciamo sempre dei 30 minuti svelti o variazioni un minuto un minuto va benissimo e poi ci buttiamo dentro le 15 salitelle 120-150 metri a me piace come distanza perché sono comodissime qua a Garbagnate abbiamo una zona dove farle la pendenza terrei quella di un cavalcavia non esagerate perché se non siamo abituati dopo il gluteo ne risentirà e la domenica invece ci mettiamo lunghetto relativamente impegnativo 10 km lenti e gli altri 20 km quindi un totale di 30 km li faremo alternati 1000 a ritmo maratona e 1000 metri un lento svelto e come al solito un consiglio della settimana per chi si sta preparando che cosa suggeriresti di fare a parte questi allenamenti? provate i gel in allenamento questo lunghissimo è adatto per provare perché faremo dei 1000 a ritmo maratona e quindi riusciamo a capire se riusciamo a digerirli non provate i gel nei lunghi lenti perché rischiate di non avere i ritmi gara e quindi magari non vi danno problemi mentre il ritmo gara potrebbe darvelo quindi se non lo provate nel lunghissimo lo provate durante il medio che è ancora meglio secondo me prendete il gelino al settimo chilometro e capite se vi ritorna su o vi dà qualche problema grazie Andrea e spero di vederti ancora presto e adesso dobbiamo assolutamente testare nuove scarpe da corsa grazie ancora e alla prossima settimana grazie a voi, ciao ciao bentornati sulla panchina spero che possiate fare una buona settimana di allenamenti domani per coloro che parteciperanno ai campionati italiani spero che possiate anche incontrare Andrea ora mi sono griffato ASICS per ricordarvi che domani alle 7 ci sarà la pubblicazione della recensione delle ASICS Glide Ride da non perdere se vi è piaciuto il video mettete like commenti sempre qua sotto io la settimana prossima sarò in Belgio i nostri consigli continueranno anche settimana prossima ciao e a presto ciao 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 Grazie a tutti.